ciao ciao oggi facciamo un test veloce del fix spray skin di navia il no more shine makeup finish è quello che insomma promette di tenere la pelle mantifiata e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Su di me non funziona, perlomeno con questo fondotinta, adesso io proverò a testarlo con tutti i fondotinta in fila, insomma per vedere se cambia qualcosa, però ragazzi mi dispiace deludervi, insomma quelle che avete la pelle grassa. Non funziona, sono tutti degli piccoli imbrogli alla fine. Ecco può essere considerato magari un make up fix alla fine, soltanto per fissare il trucco ma non è un no more shine in realtà. Perché non guardate voce, non c'è bisogno neanche che vi parlo, vedete voi da sole. State buone, tenetevi i soldi in tasca, compratevi piuttosto una palletta di colori ecco. State buone, non spendete i soldini. Ciao, 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 ciao. Grazie a tutti.